Amici dei motori, un saluto da Fiammetta La Guidara, buongiorno, benvenuti sul circuito di Adria, siamo pronti per una lunga giornata di diretta da vivere insieme con il campionato AC Karting che arriva alla sua terza tappa della stagione. Dopo Castelletto di Branduzzo e dopo Sarno siamo sul tracciato di Adria in una giornata che già questa mattina a 9.45 è caldissima. La giornata di ieri ha visto temperature davvero elevate quindi tanto impegno, tanta fatica in più per i piloti e vediamo che intanto sono schierati in pista i protagonisti della classe Pro Driver Under. Ma io vado subito a presentarvi il nostro ospite che ci accompagnerà per le prime due gare con molto piacere Doyle. Benvenuto in cabina di commento a Francesco Celenta. Ciao Francesco! Buongiorno, buongiorno a tutti. Francesco Celenta è il leader della KZ2, un bellissimo inizio di stagione quindi innanzitutto ti facciamo i complimenti per questo avvio di stagione. Vi ringrazio, sembra davvero un buon avvio, speriamo di continuare qui ad Adria partendo dalla seconda posizione, speriamo di continuare a far bene. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, chiaramente poi ti commenteremo sempre in diretta, noi non ci muoviamo da qua fino alla fine della mattinata, quindi fino all'incirca le 13.45. Anche voi che siete a casa, mi raccomando, non mollate il contatto con Automoto TV che potete vedere anche in streaming oppure anche con SportTube.tv. Vi ricordo che siamo quindi in diretta sia su dispositivi mobili che chiaramente sui televisori. E intanto andiamo a vedere la griglia di partenza con Francesco Temperini e Francesco Alfiniti in prima fila, Nicolò Zin e Denis Tuia in seconda, Alessio Zanotti e Roberto Cesari in terza, Riccardo Nalon e Luca Bombardelli in quarta, poi Matteo Salvetti e Francesco Alaimo, Filippo D'Atanasio e Massimo Grilli, Paolo Castellan e Maria Laura Di Muzio, Luca Pizzico e Davide Gandolfo, Federico Centioni e Daniele Caret, e poi a seguire Lorenzo Natali e Mattie Mader, Vincenzo Alessio Lamartina, Daniele Zambelli, Stefano Palmeri e Daniele Duva, Samuele Cassiba e Cristian Morelli, Paolo Castagnetti e Paolo Fracasso, Davide Zecca, Roberto Massaro, Thomas Pucci, Dennis Menegatti e Andrea Fortuna a chiudere lo schieramento di partenza. I piloti hanno già preso il via per il warm-up lap, ma c'è una cosa, Francesco, che stavamo notando e che ci fa presagire una gara particolarmente combattuta per Federico Centioni, che è il leader della classifica con otto punti di vantaggio su Filippo D'Atanasio e che come stavi notando è in diciassettesima posizione in griglia di partenza. Sì, sicuramente avrà avuto in match 2 un problema, un problema tecnico, costretto a partire dalle retrovie, sicuro sarà una gara per lui di rimonta, un ragazzo molto veloce in questa categoria dall'inizio dell'anno in tutte le gare di tutti i campionati che ha fatto, ha sempre primeggiato, sicuro avrà una gara di rimonta da fare. Sì, ha vinto in gara 1, infatti, nel debutto di Castelletto di Branduzzo e poi effettivamente si è sempre distinto, tanto che appunto conduce con 52 punti contro i 44 di Filippo D'Atanasio e contro i 38 di Francesco Alfiniti, che parte in seconda posizione, mentre Francesco Temperini che parte in pole position con il kart numero 527 è quarto in classifica di campionato. Ricordiamo anche che per il momento loro hanno effettuato soltanto una gara, ovvero due manche, quella di Castelletto di Branduzzo, non erano infatti presenti a Sarno, sono tre gli appuntamenti per la Pro Driver Under e la Pro Driver Over, e ricordiamo che Under significa Under 35, tra l'altro. Esatto. I kart, approfittiamo anche per dare qualche indicazione sui kart, che sono molto simili a quelli con cui corri tu, Francesco. Sì, esatto, sono i telai, sono identici, senza nessuna differenza, i motori soltanto sono di un'omologa precedente, ma come a livello di prestazione sono molto simili ai nostri. E quindi sono dei kart con le marce? Sì, sempre con sei marce, sei cambi di velocità, sono molto performanti tanto quanto i nostri, soltanto la grossa differenza sono gli pneumaci, che sono un po' più duri, hanno soprattutto su questo circuito che mette davvero sotto forte stress gli pneumaci, loro hanno meno problemi, la differenza un po' delle nostre, però comunque è una pista molto complicata da mettere a posto i telai per non avere problemi con le loro. Tra l'altro abbiamo visto che i pirati hanno affrontato due giri di warm-up, questo evidentemente poi perché ci sono condizioni anche climatiche che sono particolari. Sì, avendo anche due pneumatici nuovi, quindi sicuramente i commissari hanno deciso di fare un giro in più di riscaldamento, proprio per mettere a posto un po' tutte le temperature degli pneumatici, eccetera, quindi per essere subito ok al primo giro, per evitare tutti i contatti e per essere al massimo della sicurezza. Allora, siamo pronti sulla sinistra dei vostri teleschermi con il kart numero 527, vedete Giorgio Temperini al suo fianco, Francesco Alfiniti, hanno primeggiato nelle manche di qualificazione, c'è un problema però in fondo dello schieramento, un kart che ora va a realinearsi, ricordiamo quindi classe Pro Driver, ci sarà un altro giro sicuro, un po' di problemi, centro gruppo, speriamo che non il suo contatto. Quindi falsa partenza o no? Sì, sì, falsa partenza. Falsa partenza anche se vedo che la grafica appunto aveva inserito giustamente uno start, invece tutto da rifare, vediamo che... Numero 503. ...si tratta di Riccardo Nalon, quindi si riparte con un warm-up lap, a questo punto approfittiamo Francesco, ci puoi descrivere un po' la pista quindi. Sì, come dicevo prima è un impianto spettacolare, su sicurezza è all'avanguardia, è un impianto spettacolare Silvio, tracciato lo stesso, l'unico problema è un po' per i meccanici, per i preparatori, mettere a posto i mezzi qui, è davvero molto complicato, un asfalto un po' diverso dagli altri, con tanto grip, con formazione di curve molto diverso dalle altre, mette molto molto dura prova sia gli pneumatici che i piloti, fa davvero molto caldo quindi sarà davvero difficile arrivare fino alla fine con le gomme. Quindi sarà un impegno particolare per i piloti, siamo pronti intanto per vedere, vediamo che c'era anche un kart, ci sono alcuni piloti che infatti stanno indicando dei problemi, quindi ora vediamo i piloti... Sono un po' concitate, sempre in me della partenza, sono sempre un po' tutti agitati. Tra l'altro ricordiamo che queste sono categorie un po' amatoriali possiamo dire? Sì, sicuramente sono ragazzi esperti sì, ma ce ne sono di alcuni anche meno esperti, quindi qualche problema nasce da questo. Allora, torniamo sullo schieramento di partenza, i piloti vanno a prendere posto sulle rispettive caselle, vediamo che vanno tutti ad allinearsi, il direttore di gara è pronto a dare lo starter, sono sui 16 i giri, vediamo, quindi si assiste al primo start della mattina, sono otto le gare di questa mattina, le seguiremo tutte rigorosamente in diretta, vediamo un kart che esce dal corridoio ma rientra, i motori intanto sono pronti, vediamo lo start, parte molto bene, Dalla PAU, contatti, le partenze sono sempre... Sì, sì, sono due kart che sono entrati in contatto e sono usciti, per il resto scorre tutto il gruppone con Francesco Temperini, che è stato molto bravo a prendere bene il via dalla pole position e con, mi sembra, il Finiti immediatamente alle sue spalle, poi la terza posizione Nicolò Zini, poi Dennis Tuglia sono rimasti sostanzialmente invariate le prime posizioni, poi vedete che invece dietro la situazione è molto confusa, intorno alla quinta e sesta posizione, alla prima cura è successo un po' di casino, un po' di parapiglia, un po' di contatti, quindi Riccardo partiva dal settimo posizione, ha perso un po' di posizioni per colpo di un contatto, sembra che abbia subito recuperato, è stato un ragazzo molto veloce in questi giorni, quindi credo che recupererà. E intanto vediamo che c'è un terzetto davanti che sta cercando di prendere il largo con proprio Francesco Temperini, con Francesco Alfiniti e Nicolò Zini alle sue spalle, poi Zanotti che ha sorpassato Dennis Tuglia ed è intanto il leader del terzetto che insegue, quindi con Zanotti, Tuglia, Bombardelli, poi Salvetti anche che ha guadagnato una posizione su Riccardo Nalo. Soppasso di Alfiniti nei confronti di Temperini, davvero molto bello. La prima posizione, quindi adesso è nelle mani di Francesco Alfiniti. Contatto, contatto, peccato, peccato, peccato. Alfiniti, altro contatto. Vediamo, vediamo. E questa è una gara concitatissima, un tracciato davvero bello, impegnativo questo del... Se ne avvantaggia Nicolò Zini che è scappato subito via. Temperini dopo il contatto con il cambio di posizione con Alfiniti, sembra sia riuscito comunque a rimanere in pista, in seconda posizione, senza aver subito danni, quindi spero di continuare la gara senza problemi. Quindi Nicolò Zini in questo momento è al comando con Francesco Temperini in seconda posizione, poi Bombardelli, che peccato infatti per Alfiniti, quindi che è uscito di scena. Vediamo se uscirà in qualche modo a recuperare, vediamo anche nella nostra grafica, nel nostro monitor dei tempi, non lo vediamo però nelle prime posizioni, quindi niente da fare evidentemente per lui. Quindi andando a rinvlogare la situazione, c'è Nicolò Zini che è riuscito a impossessarsi del comando e qui dietro intanto c'è grande bagarre, anche per le posizioni di mezzo, quindi Nicolò Zini davanti, Francesco Temperini secondo, poi Bombardelli. Si stanno alternando un po' i settori veloci, quindi si vede che sono molto simili, molto vicini. La regia intanto ci mostra il contatto. Sì, se non sbaglio è Bombardelli che ha provato ad entrare a fianco di Temperini, però purtroppo era un po' troppo al limite e l'ha toccato da dietro. E quindi vediamo... No, non era Bombardelli, mi sembra. Bombardelli in questo momento è in terza posizione, vediamo che la situazione rimane quindi invariata al comando con Zin, Temperini, Bombardelli, poi Nalon, Salvetti, Alaimo in sesta posizione mentre Denis Tui ha sorpassato David Gandolfo per la settima piazza. Eh ma è una gara davvero concitata, sono carte molto prestazionali tra l'altro questi? Sì, sì, senza dubbio, sono carte molto molto veloci, soprattutto su questo circuito si esprimono davvero molto molto bene, è un circuito molto scorrevole, molto veloce, si fanno anche delle belle velocità. Vediamo intanto che la situazione al comando vede un Nicolo Zin che sta cercando di guadagnare qualche metro di vantaggio su Francesco Temperini che però risponde... con un giro veloce. Con un giro veloce, 50-127 il suo miglior crono, quindi siamo... in questo momento Zin ha un vantaggio di 7 dash su Temperini e di 2 secondi su Bombardelli, qui dietro invece... Sì, dietro si farà interessante la gara perché c'è Tuia che era davanti, per colpa di quei contatti è andato un po' dietro, quindi anche lui sta cercando di recuperare, sta cercando di fare spazio, nel frattempo sono terzo e quarto che stanno girando il sosto su dei buon tempi e cercano di chiudere il gap contro i primi due. E per quanto riguarda il leader della classifica Centioni, in questo momento direi che lo sto cercando Francesco nel nostro monitor dei tempi che ci riporta le prime 27 posizioni, ma io non lo vedo. Esatto. E quindi forse è rimasto coinvolto in uno dei contatti. Era un brutto colpo per il campionato. Eh sì, perché comunque c'è da dire mentre intanto vediamo che Tuia sta recuperando posizioni, quindi avanti su Matteo Salvetti ed è ora in quinta posizione. In effetti, come stavi ricordando, era nelle prime posizioni e poi il contatto che ha visto anche coinvolto Alfiniti. E c'è una carta che si ferma, è la carta numero 536. È proprio Francesco Alfiniti. È proprio Francesco Alfiniti che stava cercando, quindi evidentemente... Di ricopatarsi nel gruppo. Peccato, quindi niente da fare. Sta procedendo piano, forse sta per raggiungere i box. Mentre vediamo che la situazione davanti rimane invariata anche il distacco di Zin. Temperini e Rosi che rosicchiano qualche mezzo decimino al giro. Sicuramente fan bene perché la gara è ancora lunga, mancano ancora dieci giri. Però recupereremo soltanto mezzo decimino al giro è dura. Però mette sicuramente pressione nei confronti di Zinicolo che non deve sbagliare niente di maniera sempre super concentrato. Se decimi sono abbastanza ma non troppi, deve essere stato tranquilli. Anche perché il leader Centioni in questo momento appunto non lo vediamo. Non vediamo neanche, appunto l'abbiamo visto anzi che stava viaggiando lentamente Alfiniti. E per quanto riguarda Datanasio che occupa la seconda posizione in classifica di campionato in questo momento è in undicesimo. Undicesimo. Quindi Temperini può fare anche un po' il gioco di campionato. Assolutamente. Si è aperta per lui una grossa e importante possibilità. Quindi vediamo adesso... Un altro giro veloce di Temperini un altro decimino recuperato. Ci la sta mettendo davvero tutta. Vedete che... È stato veloce per tutto il weekend in verità ha vinto anche una mancia. Sicuramente sarà in grado di chiudere il gap in base un po' sia agli intertempi che ai giro veloci che sta facendo. Ecco adesso Zin risponde quindi si vede che sarà veramente una gara molto molto combattuta fino alla fine. Qui dietro intanto si stanno scambiando le posizioni. Abbiamo visto David Gandolfo con il kart numero 520 avanti di una posizione su Alessio Zanotti e la lotta per l'ottava piazza e c'è da dire che poi in virtù della griglia invertita del pomeriggio quindi le prime otto posizioni vengono invertite. Non è poi così male essere ottavi. Arrivare ottavi significa partire in pole nella gara del pomeriggio quindi c'è anche un impegno in questo senso. Può dare una buona possibilità per gara 2 per raccimolare un bel po' di punti. Abbiamo visto le inquadrature anche per Filippo D'Atanasio che viaggia invece in undicesima posizione quindi se non avanza almeno potrebbe avanzare fino all'ottava tentare e quindi partire in pole position e lì sarebbe davvero un buono start mentre al momento è in undicesima posizione quindi partirebbe undicesimo in gara 2. Noto che Zin nel primo settore è sempre porpora davvero molto veloce invece negli altri due c'è Temperini che invece chiude un po' il gap infatti rusica sempre qualcosina agli ultimi due settori e chiude ogni giro qualche centesimo. Intanto sì Temperini comunque sigla il giro veloce 49.8 anche nell'ultimo passaggio in questa Pro Driver Under che stiamo seguendo in diretta dal circuito di Adria con veramente una bella sveglia ci hanno dato stamattina Francesco domenica mattina qui è presto e qui invece l'adrenalina è già a mille per cui è veramente una bellissima sveglia equivale a un triplo caffè questo start. Ormai Temperini sente la scia sicuramente in pieno è soltanto a tre decimi da Zin quindi sicuramente adesso nei prossimi giri ci sarà battaglia vera mancano ancora sette giri tre decimi sono abbastanza pochi quindi sarà davvero dura per Zin adesso mantenere la prima. Perfetto tempo Tuia infatti quello che stavo dicendo vedo che sta recuperando macinando posizioni dalla quinta adesso dovrebbe essere quindi in quarta piazza con anche lui dei giri abbastanza interessanti considerando comunque che ha dei piloti davanti quindi 52 il suo ultimo passaggio in quadrature invece abbiamo visto per Matteo Salvetti che è in sesta posizione attendiamo il prossimo riscontro cronometrico mentre intanto sono già volati i primi dieci giri e queste inquadrature ci portano sulla lotta per la testa della gara soltanto due decimi adesso tra Nicolo Zin e Francesco Temperini mentre Luca Bombardelli conduce il gruppetto degli inseguitori con Denis Tuia che infatti è confermato è in quarta posizione davanti a Nalon e Salvetti questa la situazione ma qui davanti c'è veramente lotta vera vediamo vediamo intanto la regia che cosa ci mostra un contatto tra Maria Laura di Muzio se non sbaglio e dovrebbe essere 511 Mattia Maeder quindi l'unica tra l'altro rappresentante delle quote rosa in pista devo dire che non sono tantissime le ragazze nel mondo del kart Francesco non tante ma ci sono state anche di molto veloci quindi sicuramente non è un senso che non può più mangiare in questo sport diciamo in generale anche se è molto fisica come guida è impegnativa sicuramente ma all'apparenza può sembrare anche noioso o semplice ma ci sono davvero delle difficoltà nascoste che mettono a dura la prova davvero il fisico assolutamente vediamo intanto che la situazione davanti rimane al momento invariata con Niccolò Zing davanti a Francesco Temperini e poi Luca Bombardelli che invece sta tenendo alle sue spalle un Denis Tuya che sta recuperando dopo un avvio difficile per via dei contatti è stato davvero un inizio di giornata al culmicotone Francesco sì esatto esatto adesso un po' di contatti anche all'inizio hanno costretto Temperini un po' a recuperare adesso su Niccolò su Niccolò Zing adesso vedo che da quando c'è dietro fa un po' più difficoltà ha chiuso il gap però fa difficoltà a starci dietro a prendere la scia a entrare il sorpaso perché è una pista davvero molto veloce il gioco delle scie fa un po' di problemi sull'anteriore quindi sono sicuro che adesso sta soffrendo un po' di più Francesco alle spalle di Izzy intanto vediamo anche le inquadrature per la lotta per la quinta posizione Riccardo Nalon carta numero 502 e Alessio Zanotti che con il carta numero 543 è riuscito a sorpassare Matteo Salvetti che scivola così in settima posizione ma torniamo sulla testa della gara le inquadrature per Temperini ricordiamo quarto in classifica di campionato in seguiva con 34 punti contro i 52 di Centioni che però è fuori dai giochi in questa gara così come lo è Francesco Alfiniti che era in terza posizione a 4 punti più di Temperini mentre per quanto riguarda Datanasio che è in seconda posizione in classifica con 44 punti sta viaggiando ancora in decima posizione quindi è riuscito a recuperarne una ma ancora non si avvicina alla ottava che potrebbe dargli la possibilità di partire dalla pole position nella gara di questo pomeriggio gara che aprirà il pomeriggio ricordo ai nostri amici che ci seguono da casa che fino alle 13.45 avremo la diretta della mattinata quindi con tutte le gare 1 le prime classi cioè tutte le classi quindi questa che stiamo seguendo è la Pro Driver Under poi seguirà la Pro Driver Over e poi la 125 Club la 125 AC Kart la OK Junior la 60 Mini la 125 AC Kart Junior e la KZ2 che è quella dove corre il nostro Francesco Celenta quindi mi raccomando appuntamento alle 13.15 fino alle 13.45 si chiuderà poi la mattinata una brevissima pausa pranzo alle 14.25 si ricomincia con gara 2 fino alle 18.30 questo è il programma di questa lunga diretta che ci accompagna per tutta la domenica che vi accompagna che ci permette di tenervi in compagnia con questo grande spettacolo che è dato dal mondo dell'Elkart di Traverso Temperini eh sì è davvero al limite purtroppo mancano soltanto due giri quindi lo vede lì ad un passo non riesce a chiudere quest'altro piccolo gap che c'è quindi le sta provando tutto perché ha visto anche che eccola 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 si sia bellissima qui in questa curva si scalano tre marce si gira verso destra curva molto stretta quindi il kart lì tende sempre un po' a derapare quando si è oltre il limite succede quello che è successo a Francesco ultimo giro intanto vediamo che siamo ormai ai ferri cortissimi ma Nicolò Zin dovrebbe avere in mano la vittoria sì davvero molto bravo quando ha visto che Francesco ieri è arrivato alle calcagna ha stretto i denti senza senza deconcentrarsi ha guardato sempre in avanti ha rimesso un po' di gap nei confronti di Temperini quindi adesso può condurre l'ultimo giro quasi in tranquillità senza dover chiudere tanto le traiettorie molto tranquillo credo che si avverrà la vittoria vediamo mancano davvero ormai pochi metri quindi situazione che vede Nicolò Zin leader con Francesco Temperini che comunque così senza rischiare appunto inutilmente conquista punti importanti la bandiera scacchi quindi la prima della giornata con Nicolò Zin che esulta ma anche Francesco Temperini per un secondo posto importante di notte che di classifica Luca Bombardelli intanto chiude in terza posizione davanti a Denis Tuia poi la quinta posizione Gianotti Riccardo Nallone sesto Matteo Salvetti settimo Davide Gandolfo ottavo quindi vi annunciamo che partirà in pole position in gara 2 oggi pomeriggio poi Lorenzo Natali e Filippo D'Atanasio secondo in classifica appunto quando siamo approdati qui ad Adria adesso dovremmo rifare i conti ma intanto Filippo D'Atanasio chiude in decima posizione poi Francesco Alaimo Paolo Fracasso Daniele Care e via via tutti gli altri quindi vediamo invece Federico Centioni alla fine chiude in ventunesima posizione quindi si vede che è stato costretto ad un recupero dopo un contatto nelle prime fasi perché addirittura partiva a diciassettesimo e ha chiuso invece ventunesimo quindi come cioè non ha preso punti con uno zero purtroppo per lui per il leader del campionato intanto giro d'onore per Nicolo Zin che è estremamente felice e che va adesso a recuperare la via del parco chiuso per quelle che sono poi le operazioni di pesa chiaramente c'è una grande attenzione al che tutte le regole vengano rispettate quindi alla fine venite pesati no? come francesco esatto fine gara il pilota e il carto completo vengono sottoposti alla presa c'è un peso minuto da rispettare non c'è nessuna tolleranza come giusto che sia perché è uno sport davvero molto tra virgolette professionista professionistico quindi si cerca di rispettare il regolamento al 100% giustamente quindi qui siamo nel parco chiuso ovvero vicinissimi tra l'altro la nostra postazione commento noi siamo proprio nel primo box per i nostri amici che ci seguono da casa vedete la palazzina sullo sfondo nel primo box siamo noi che vi accompagniamo in questa giornata grazie alla regia di Mauro Valentinuzzi che coordina una grande equip un grande team di professionisti Nicolo Zin Francesco Temperini Luca Bombardelli Dennis Tuia Alessio Zanotti Riccardo Nalo De Matteo Salvetti e Davide Gandolfo queste le prime otto posizioni e poi a seguire Lorenzo Natali Filippo D'Atanasio Francesco Alaimo Paolo Fracasso Daniele Care Rodolfo Massaro Maria Laura Di Muzio che alla fine chiude in quindicesima posizione Dennis Menegatti Lamartina Morelli Grilli Castagnetti Centioni come vi dicevamo leader della classifica ventunesimo poi Thomas Fucci ventiduesimo questa è la situazione Griglia piena tra l'altro nella Pro Driver Under e siamo pronti anche per vedere gli highlights di questa gara gli highlights di gara 1 della Pro Driver Under dal circuito di Adria con Francesco Temperini che parte dalla pole position davanti a Francesco Alfiniti con la terza posizione Nicolo Zin e la quarta di Dennis Tuia ci sono dei contatti nelle primissime fasi Francesco Temperini era riuscito a partire subito molto bene ma poi il contatto c'è un contatto che coinvolge anche Francesco Alfiniti che sarà costretto quindi al ritiro al comando dopo la bagarre va Nicolo Zin che riuscirà a mantenersi davanti proprio su Francesco Temperini fino alla fine quindi un bottino importante di punti per lui dopo essere approdato qui sul circuito di Adria in quarta posizione in classifica di campionato in terza posizione si piazza Luca Bombardelli che chiuderà quindi sul podio vediamo ancora dei contatti che coinvolgono alcuni piloti questo era Mattie Meder con il carto numero 511 poi vediamo con il carto numero 527 Giorgio Temperini che in derapata cerca di guadagnare terreno nei confronti di Nicolo Zin ma alla fine dovrà chiudere in seconda posizione davanti a Luca Bombardelli questa gara 1 della Pro Driver Under dal circuito di Adria eccoci pronti per il podio a questo punto bella gara bella combattuta Francesco davvero davvero una gara bellissima purtroppo abbiamo perso uno sicuramente di di papabili per la vittoria al finito nel contatto con Temperini nel cercare la prima posizione purtroppo tra di loro c'è stato un contatto e ne ha fatto sicuramente le spese al finiti poi non portato a casa né punti per il campionato né tantomeno la vittoria purtroppo è andata così sicuramente ne ha giocato Nicolo Zin dal contatto si è messo subito davanti ma sicuramente aveva un mezzo molto performante lui è stato molto bravo a tenere la posizione senza mai voltarsi indietro guardando sempre avanti ha portato a casa una bella vittoria una bella vittoria davvero intanto da queste inquadrature possiamo vedere quanto è bello questo tracciato che è assolutamente recente di recente istituzione ed eccoci sul podio quindi con Bombardelli sul terzo gradino Temperini sul secondo e rispettiamo l'inno e rispettiamo Grazie a tutti. Quindi andiamo adesso a spostarci dalla classe ProDriver Under che va così in archivo per quanto riguarda gara 1 alla ProDriver Over che è già pronta per schierarsi in pista. Del resto è una giornata davvero serrata questa Francesco. Sì, programma lunghissimo, si è partiti molto presto stamattina e finirà stasera anche molto tardi, chiudiamo proprio noi con la KZ2. Quasi alle 7? Sì, esatto, sarà davvero una giornata sia per noi che per voi, molto molto lunga e serrata. Molto bella però una giornata che sicuramente volerà in compagnia di voi, protagonisti del mondo del kart, anche perché ci regalate sempre delle gare talmente combattute che i minuti di gara volano. Quindi davvero non ci si rende conto di quanto possa essere lunga una giornata. Del resto qui ad Adria abbiamo veramente un piccolo record, anzi un grande record perché sono tantissimi i piloti presenti. Quindi tra l'altro in questa occasione abbiamo presenti tutte le classi, quindi anche la ProDriver che ad esempio non era a Sarno, ma anche la 125 Club che invece non era a Castelletto di Branduzzo né in occasione della prima gara. Quindi veramente un record, sono ben 232 ad Adria i piloti per il tricolore, quindi veramente un record. Sì, davvero le categorie sono davvero tutte piene. La vostra è la maggiore, KZ2 51 partecipanti, anzi scusami no, voi siete i secondi, con la 60 Mini ce ne sono 68. La Mini è sempre strapiena, giustamente, anzi sono molto contento che le categorie mie siano sempre piene, perché alla fine è il vivaio di questo sport, quindi saranno sicuramente in tanti che continueranno in questo bellissimo sport. Quindi vediamo intanto i piloti della ProDriver Over che vanno a schierarsi in pista, ricordiamo che la ProDriver Over significa Over 35 e andiamo anche a ricapitolare che cosa è successo. Anche in questo caso si arriva da Castelletto di Branduzzo dove in gara 1 aveva vinto Paolo Scagnelli davanti a Davide Colombo e Daniele Cirelli, in gara 2 aveva vinto Luca Giannecchini davanti a Daniele Cirelli e Claudio Tempesti. Soprattutto in gara 1 c'era stato il contatto tra Pasquale Feola e Claudio Tempesti mentre erano in lotta per la seconda posizione. La classifica di campionato vede leader Paolo Scagnelli che si trova in quinta posizione adesso in griglia di partenza, la seconda posizione di Daniele Cirelli che parte immediatamente a suo fianco, poi la terza posizione di Giannecchini, poi Simone Torsellini e Davide Colombo, questa è la situazione e la pole position invece è per Andrea Tonoli che è anche il campione in carica della categoria che era stato assente nella gara di Castelletto. In prima fila c'è anche Cristian Grigio, quindi una vittoria di Manche per lui, andiamo proprio a vedere la griglia con Andrea Tonoli, Cristian Grigio, poi Mario Covino, Luca Lavorato, Paolo Scagnelli, Daniele Cirelli, Maurizio Giacchetti, Simone Torsellini, Paolo Beltramini, Pasquale Feola, Roberto Avanzato, Cosimo Antoniello, Luca Giannecchini, Andrea Montagnani, Claudio Tempesti, Attilio Borghi, Gianluca Sgorlonne e Gianpietro Parolin a chiudere lo schieramento di partenza. Bisogna fare attenzione anche a Claudio Tempesti che era stato buon protagonista, terzo in gara 2 ma soprattutto in gara 1 a Castelletto si era purtroppo scontrato con Pasquale Feola ed erano usciti tutti e due. Purtroppo in questo weekend però vedo che sta facendo un po' di difficoltà, un po' in generale in tutta la classifica c'è stato un po' di mescolamento, davanti soprattutto i vincitori di Castelletto qua stanno un po' faticando, invece davanti si sono piazzati Tonoli, Grigio, Covino, Covino con una gran bella soccostanza, due secondi posti nelle Manche, invece si sono alternati sia Tonoli che Grigio a vincere una Manche e con un terzo posto. Quindi secondo me adesso sarà davvero a fare la differenza, la messa a punto di Telai anche nel warm up di stamattina per vedere chi la spunterà in finale. Vedremo, intanto io rinnovo i ringraziamenti a Francesco Celenta che è in cabina di commento con noi, tra l'altro in quelle che sono delle giornate molto impegnative per lui essendo pilota e leader della classifica di campionato di KZ2, impegno che ti vedrà in pista alle 13.15 e noi naturalmente saremo qui a commentare, noi poi non possiamo fare il tifo ovviamente per nessuno però chiaramente ci simpatizziamo per il pilota che è stato con noi in cabina di commento. Per le prime due gare della mattina naturalmente apprezziamo sempre lo sforzo perché immaginiamo quanto voi piloti abbiate bisogno di concentrazione prima della gara. Sì sicuramente, è uno sport anche abbastanza pericoloso per quanto riguarda la velocità eccetera, però quindi sicuramente un po' di concentrazione, un po' di tranquillità fa sempre bene. E quindi grazie doppiamente per essere qui con noi in cabina di commento alla vigilia della tua gara, naturalmente poi ti aspettiamo anche per quanto riguarda la Pro Driver Under e Over per le gare due. Sarà un piacere. E ci racconterai anche com'è andata KZ, tra l'altro ci sarà una brevissima pausa perché tu finirai KZ, ci saranno forse 20 minuti di pausa, dopodiché si inizierà con appunto la Pro Driver Under. Se vuoi venire in tuta puoi farlo, non preoccuparti. Spero di avere il tempo di cambiarmi perché dopo la gara 1 che sarà verso l'1 sarà sicuramente un caldo tremendo. Ci saranno non si sa quanti gradi, in effetti poi oltre alle temperature davvero elevate qui ad Adria c'è un tasso di umidità elevatissimo, quindi vi lasciamo immaginare quanto si possa percepire. Il weekend è davvero duro, sia per noi piloti sia per il materiale che scende in pista. Davvero sarà chi vincerà qui, sarà stato molto bravo sia lui che tutto il team. Assolutamente è uno sforzo e poi tra l'altro immagino che anche per le gomme, per i kart stessi, comunque dovrete uscire forse anche dalla scia del kart davanti per farlo raffreddare. Sì, questo weekend è un po' sotto tutti gli aspetti, sia temperature e acqua per quanto riguarda l'affettamento del motore, sia temperature delle gomme. È stato molto molto duro, cercare di mantenere tutto nei parametri giusti per non avere problemi. Quindi ripeto, il pilota deve farlo a sua parte cercando di essere sicuramente al limite, ma non oltre, per tenere tutto nei parametri. Il team, per quanto riguarda i motoristi e i teleisti, devono cercare di avere un setup perfetto per non mettere in crisi le gomme. I motori devono avere la temperatura giusta per essere performanti dal primo fino all'ultimo giro. E quindi un grosso lavoro da parte, tutta la squadra oltre che delle pilota. Effettivamente noi siamo abituati a considerare il kart come uno sport individuale, perché sicuramente il pilota è poi quello che fa la differenza. Chi scende in pista sicuramente è l'individuo, ma dietro c'è un lavoro immenso, tantissime persone dietro, dal telemetrista, dal motorista, anche in queste categorie che tra virgolette sono amatoriali, ma per essere così competitivi il livello si è usato tantissimo, quindi c'è tanta gente dietro e tanta gente che fa questo dimostiere, quindi il livello è molto molto alto. Niente può essere lasciato al caso e all'improvvisazione, chiaramente quindi grossi sforzi e grosso impegno da parte delle squadre. Ed eccoci pronti, intanto due giri di warm-up. Ecco, chiaramente ricordiamo partenza da fermi come per tutte le categorie con il cambio. Questa infatti la ProDriver Over che stiamo vedendo è una classe molto simile alla KZ2, quindi i kart sono sostanzialmente gli stessi. Sì, esatto, si arriva in fall, si cerca di tenere il motore quanto più pulito di carburazione possibile per essere subito pronto allo scatto, allo spegnimento dei semafori. Adesso sicuramente per il pilota posso testimonare il momento forse con un po' più di tensione, ma appena si accende la sequenza si dimentica tutto e si è solo concentrato. Vediamo allora sulla sinistra strada i vostri delle schermi 628, Tonoli sono partiti ed è partito male Tonoli. Si perde, uh è quarto addirittura, mentre è scattato molto bene Christian Grigio che è davanti. Covino si riesce a dribblare Tonoli e si piazza subito in seconda posizione. Vediamo quindi un ottimo avvio da parte di Christian Grigio, Tonoli invece ha purtroppo sprecato, c'è un problema per Covino. Per Covino che partiva... Sicuramente un problema tecnico, si accosta subito, lascia passare. Ora ha avuto qualche problema forse al rapporto del cambio perché di solito può capitare dopo la partenza, c'è sicuramente uno sforzo incredibile da parte del rapporto quindi forse sarà rotto, non saprei. Purtroppo se abbiamo perso un altro protagonista si entra nella gara. Eh sì, vediamo intanto com'è la situazione quando si chiude il primo giro con Christian Grigio davanti a Luca Leverato, Andrea Tonoli in terza posizione, poi Scanielli, Giacchetti avanzato, Pasquale Feola, Simone Torsellini, Montagnani, Antoniello e vediamo che Tempesti è in tredicesima posizione, quindi per quanto riguarda il leader della classifica di campionato Paolo Scanielli è in quarta piazza in questo momento, vediamo quindi se riuscirà a recuperare qualcosa. Già ha recuperato una posizione ma in realtà è stata l'uscita di Mario Covino che lo ha fatto scalare avanti di una posizione. Ecco, tutto questo sicuramente va a vantaggio di Christian Grigio che sta facendo anche segnare degli intertempi record quindi sicuramente cerca di mettere su più gap, sfruttare questi momenti è importantissimo, ti darà la possibilità di gestire il tuo margine durante la gara. 16 giri intanto, ne sono già stati percorsi due, vedete che ha già preso un buon margine di vantaggio infatti Christian Grigio a suon di giri record come ci ricorda Francesco Celente che è qui in cabina di commento con noi, vediamo che c'è un terzetto che insegue per la seconda posizione Luca Levorato, Andrea Tonoli e Paolo Scanielli, posizioni invariate per quanto riguarda questo secondo giro con Pasquale Feola che è in sesta posizione e appunto Scanielli, ricordiamo il leader della categoria che viaggia in questo momento in quarta posizione. Sì esatto, proprio in questo momento ha sopravvanzato l'ex leader della corsa che partiva prima Tonoli, sicuramente sta... Terzo quindi? Sì esatto, Tonoli è sfruttato quarto anche dopo una brutta partenza, ha perso un'altra posizione. Vediamo ecco il replay con il sorpasso all'interno, bello pulito, allargato evidentemente, ha sbagliato qualcosina però Tonoli... Sì sicuramente quando ha visto Scanielli a fianco non ha forzato più di tanto, giustamente non vuole buttare via il campionato. Quindi Tonoli perde una posizione con Scanielli che lo passa. Sì, grigio, vedo che ecco ancora settore viola nel primo intertempo, sicuramente vuole scappare via, vuole scappare via, la gara è molto lunga quindi vuole sfruttare questo margine che ha creato di un secondo e due in questo momento per essere tranquillo e cercarlo di gestire. Vediamo se il lavorato sarà d'accordo durante la gara. Per quanto riguarda gli altri vediamo che Tempesti ha avanzato di una posizione ma è soltanto in dodicesima piazza. Teniamo d'occhio anche l'ottava posizione perché come ricordavamo prima chi si piazza ottavo partirà poi in prima posizione questo pomeriggio. In questo momento l'ottava piazza appartiene a Simone Torsellini. Si chiude intanto l'altro giro, il vantaggio di Cristian Grigio è di un secondo e quattro nei confronti degli inseguitori. Aumenta. Aumenta ancora, ha fatto un altro giro record, 55, ha guadagnato ben tre decimi su Luca Leverato. 56 però Paolo Scanielli che secondo me adesso ha tutte le intenzioni di andare a prendere Luca Leverato. Che dici Francesco? Si sicuramente, ha passato il giro prima Tonoli, adesso si è messo alle calcagne di Leverato e degli intertempi sembra essere molto veloce. Lo sta adesso tallonando dalle spalle, sta cercando secondo me soltanto il momento giusto per attaccarlo e cercare di giudere Garp su Grigio. Eh si, vediamo, è una bellissima lotta in tre addirittura. E' molto serrata, molto serrata, Tonoli non ci sta perché partiva primo, quindi adesso che si vede quarto sicuramente avrà tanto da vendere a cara la pelle e cerca di stringere i denti per recuperare di nuovo. Dietro intanto Pasquale Feola si è portato in quinta posizione ai danni di Maurizio Giacchetti. Con un bel giro veloce. Eh si, quindi 59 era il giro di Giacchetti, invece 54 quello di Pasquale Feola, quindi addirittura più veloce di Cristian Grigio che è davanti. Ricordiamo che Feola era uscito in gara 1 del Castelletto per un contatto con Tempesti, ma è sicuramente un pilota da tenere d'occhio. E per quanto riguarda invece Scagnelli, la situazione adesso lo vede in terza posizione con tutte le intenzioni di andare a prendere Luca Levorato. Lo vedete con il kart blu in mezzo a questo terzetto con, giustamente come dicevi tu alle sue spalle, un Andrea Tonoli che essendo partito dalla pole position, non ci sta adesso alla quarta posizione. Non ci sta, non ci sta. Ecco Feola intanto che arriva. Sì, Feola ancora a giri veloci, guadagna ben 4 decimi nei confruttiti di Tonoli, quindi il gap sembra davvero chiudersi a visto d'oggio. Ha recuperato già ben 5 posizioni dallo start della partenza, quindi sicuramente è davvero messo molto bene in pista e lo sta dimostrando con son di giri veloce. Ecco lo che sta agganciando il terzetto, il gruppetto, mentre Cristian Grigio ha un vantaggio, vediamo, di 1 secondo e 6. Ok, e chissà se Scanielli riuscisse a sorpassare Levorato che mi sembra che gli faccia un po' da tappo, ma evidentemente non è tanto facile sorpassare su questa pista. Sì, esatto, esatto, davvero, un bel impianto, però non ci sono molti punti di staccata. Uno o due ce ne sono, ma il pilota davanti giustamente è un po' esperto, se sa che è alle calcagna quello dietro chiude un po' il traiettore, quindi diventa non impossibile ma molto difficile. E in questo momento Scanielli sta soffrendo tanto questa cosa, nonostante che ha chiuso subito il gap su Levorato, però adesso fa fatica a sopravanzarlo, quindi sta perdendo un po' di tempo. Assolutamente, quindi vediamo, lo vediamo che sta scalpitando alle spalle di Levorato con Tonoli che sicuramente è pronto ad approfittare ogni minima sbavatura, intanto Pasquale Feola li ha raggiunti. Eccolo che si è andato ad agganciare al gruppetto, siamo intanto non ancora né a meno, giustamente adesso alla metà gara, siamo nell'ottavo dei sedici giri, ne sono stati percorsi sette, come vedete dalla grafica, in sovraimpressione, quindi vediamo. C'è ancora tanto sicuramente in palio, vediamo che Pasquale qua ha quasi chiuso, adesso quando inizia a sentire l'effetto scia li vedi così vicini, sicuramente darà il 101% e sicuramente Feola lo sta dando. Ecco, vediamo infatti che ormai il gap è stato quasi del tutto colmato, Pasquale Feola si sta portando in scia ad Andrea Tonoli, mentre il vantaggio di Cristian Greggio è aumentato leggermente, un paio di decimini, un secondo e otto. sta portando al sicuro quella che potrebbe essere quindi la sua prima vittoria stagionale, direi sempre molto belle le gare poi delle classi simili a KZ, Francesco, perché sarà anche la partenza così con il... Da fermo, sì, sicuramente forse ha un po' più di fascino la partenza da fermo, crea sempre un po' forza di adrenalina, rispetto a quelle... lo stesso molto difficili ma forse meno spettacolari da questi quarti lanciati. Grigio comunque ha deciso di vincerla, ancora un buon giro, non il giro veloce che appartiene a Pasquale Feola ma sono lì a centesimi, ma continua ad aumentare il distacco nei confronti di lavorata, si è messo a due secondi e due, adesso in poi può con soltanto sette giri alla fine può anche iniziare a decidere di gestirla un po'. Bellissima gara, quindi vedete questo quartetto adesso che è in lotta direi proprio per la seconda e la terza posizione, vedete che Tonoli comincia a scalpitare, adesso che comincia ad avvicinarsi la fase conclusiva della gara non è più il momento di indugiare, di esitare ma bisogna... Sì, qui si vede tutta la difficoltà da parte di Tonoli che purtroppo soltanto ha patito un brutto start e adesso è dietro, si vede che è ben settato a terra, fa delle belle linee però purtroppo il passare è difficile quindi adesso sta patendo un po' questo. Vediamo intanto che questo quartetto sta girando con tempi fotocopia, con Pasquale Feola che come stavi rilevando era partito addirittura in decima posizione quindi ha fatto davvero una bella rimonta ed è adesso in quinta posizione con tutte le intenzioni di comunque scalare ancora piazzamenti mentre alle loro spalle la situazione rimane direi invariata con un Cristian Grigio che adesso ha portato a due secondi e tre il suo vantaggio nei confronti di Luca Leverato quindi eccolo eccolo che esce intanto Tonoli dalla scia Leverato è giudici e fa davvero un bel sorpasso molto al limite ma si può dire corretto. Adesso cercherà di approfittarne anche Feola che sfrutta il momento un po' di difficoltà di Scagnelli anche perché lui sta andando anche molto veloce quindi sicuramente proverà l'attacco subito. Anche perché ha visto, vediamo intanto la regia di Mauro Valentinuzzi che ci mostra il replay, è sì bello, bello, molto molto bello, del corpo a corpo. Molto deciso. Vicinissimi, del resto lui ha un po' atteso, ha visto che Scagnelli non trovava il sorpasso sul Leverato a questo punto ha detto adesso vado io e provo. E quindi abbiamo un Andrea Tonoli in terza posizione al momento, vediamo che cosa riuscirà a fare, intanto vedete che Paolo Scagnelli non ci sta. E adesso ha sentito anche l'arrivo di Feola quindi inizia a fare un po' di linee per mettere in difficoltà a Feola e adesso sarà ancora più dura per Feola recuperare perché Scagnelli sa di avere Feola alle Calcagne quindi chiuderà e per Feola sarà un po' più difficile continuare a fare quei giri veloci che sta facendo quando aveva pista libera. Si chiude intanto un altro giro, guardate quanto è serrato questo quartetto e mi dà l'idea che qui fino alla Bagliera Scacchi se ne daranno di santa ragione. Mentre davanti ovviamente di tutto questo come sempre avviene si avvantaggia il leader che è Cristian Grigio che ha due secondi e sei adesso di vantaggio a questo punto direi che è abbastanza imprendibile. Nel frattempo Tempesti, l'autore di sicuramente un bel weekend lì a Castelletto, adesso è autore del giro veloce anche se naviga in una posizione però sembra aver risolto un po' i problemi nell'inizio del weekend. E quindi punta l'ottava sicuramente. Sicuramente, sicuramente con un bel giro veloce e con 7-8 decimi di distacco da avanzato cercherà di chiuderlo in questi altri 4 giri per reguadagnare la prima posizione di gara 1. Di gara 2, infatti di gara 2 che come ricordavamo prima vede l'inversione della griglia di partenza per le prime 8 posizioni e quindi arrivare a ottavi significa guadagnare la polle per la seconda frazione di gara di oggi pomeriggio e vediamo che intanto qui la situazione è in cannescente. Il grigio sempre non è, non starci al giro veloce di Tempesti risponde subito con un 50-361 che ancora aumenta il gap sulle Morato che è quasi a 3 secondi. Sicuramente a 3 giri dalla fine è imprendibile a meno che di qualche problema tecnico. Intanto le Morato non ne vuole sapere di mollare la seconda posizione, è lì che la difende. Sì, le Morato come una formichina sta soffrendo tanto ma ha un gran lavoro, senza sbavature, sta molto concentrato, guarda sempre in avanti e sta riuscendo a... Eccolo Tonoli. Eccolo, uh che sorpassa. Tonoli quella curva lì gli piace essere sorpassata, ha brutto contatto tra Scagnelli, peccato, peccato. L'attore è il leader del campionato, mi sa che stavolta l'ha pagato. Quindi Scagnelli si gira, mentre intanto Tonoli guadagna la seconda posizione su Levorato, mentre purtroppo... Adesso attendiamo di vedere anche il replay da parte della regia di Mauro Valentinunzi. Ci piacerebbe rivedere quindi l'azione che ha portato quindi al testa coda del leader della classifica, Paolo Scagnelli, che vediamo scorrere sul nostro monitor dei tempi, quindi evidentemente non è riuscito ancora a ripartire. E quindi la situazione vede ora Grigio davanti a Tonoli, Levorato terzo, Pasquale Feola quarto, Torsellini, addirittura Tempesti settimo in tutto questo. Vediamo... Ecco, vediamo cosa è successo esattamente. Questo è... Sì, Tonoli all'ultimo tornantino, è entrato all'interno di Levorato, che era, come dicevamo, un po', faceva un po' da tappa. E poi invece... Poi purtroppo Levorato, avendo subito il sorpasso, è andato un po' sullo sporco, come non molto pulito, e quindi Scagnelli ha cercato anche lui di sorpassare, un po' nel parapiglia c'è stato un contatto. Quindi contatto fra i due, ci ha rimesso purtroppo Scagnelli, che adesso forse è dodicesimo. Vediamo se transita sul nostro monitor dei tempi, mentre vediamo che la situazione... Vede un Cristian Grigio che adesso addirittura ha tre secondi, otto di vantaggio, Sandri a Tonoli... Ormai neanche più inquadrato dalle camere, giustamente, è proprio scappato via. Sta facendo la sua gara solitaria, gara solitaria per lui. Vediamo invece le inquadrature, ora per Pasquale Feola, che è in quarta posizione, la bandiera Scacchi, che va a sancire la vittoria di Cristian Grigio con la volata, poi per la seconda e terza posizione che si chiude con Andrea Tonoli davanti a Luca Levorato. Pasquale Feola quarto, Simone Torsellini transita ora, poi avanzato Tempesti settimo, Giannecchini ottavo, poi a seguire dovrebbero giungere Sgorlon, Parolin e Borghi. E poi, purtroppo, c'è stato il contatto che ha estromesso, penso a questo punto, Scagnelli, perché non lo vediamo transitare sul traguardo, ma in ogni caso, anche se transitasse, sarebbe in dodicesima posizione. Quindi, peccato per lui. Vediamo Cristian Grigio, il vincitore di questa gara, dove davvero non ha lasciato spazio a nessuno, non è mai stata messa in discussione la sua supremazia. Sì, sicuramente, ha sfruttato tutto quello che è di buono, la brutta partenza di Tonoli, quindi lui ha sfruttato subito il fatto di scappare via. Aveva sicuramente un mezzo anche per poter vincere la gara, perché l'ha dimostrato con il segno di giri veloci, è scappato via, la costante, senza nessun problema. Operazioni di pesa, che bello, la nostra telecamera ci porta nel backstage, ci porta dietro le quinte, cade, intanto si butta per terra stremato, credo che più che è caduto si sia proprio buttato. È molto provato, è molto provato. Credo che veramente faccia già molto caldo fuori, noi siamo già dentro da quasi un'oretta, in cabina di commento, qui siamo nel primo box della palazzina che vedete nelle inquadrature, e qui non è caldissimo per la verità, anche se non abbiamo chiaramente l'aria condizionata essendo in un box, ma fuori, questa mattina in circuito, io sono arrivata alle 7.40 e faceva già caldo, Francesco. Sì, è già caldissimo. Infatti le previsioni quest'oggi portano circa 35 gradi nel punto massimo, sarà davvero dura per noi. Sarà davvero dura anche perché voi correte proprio nel momento centrale della giornata, quindi alle 13.15 la formazione della griglia, quindi sarà davvero una grande calura. Ma voi la sentite poi tanta calura anche quando correte o no? Diciamo che proprio quando corriamo l'adrenalina fa dimenticare tutto, ma appena si spegne il kart si sente tutta. Grigio davanti a Andrea Tonoli, poi Luca Levorato, Pasquale Feola, Simone Torsellini avanzato, Tempesti settimo, Gianluca, scusate, Luca Giannecchini in ottava posizione, queste sono le prime otto posizioni che poi andranno a comporre le prime otto posizioni in ordine inverso della griglia di gara 2, mentre a seguire appunto avete visto Sgorlon, Parolin, Borghi, Scagnelli che purtroppo è stato costretto al ritiro. Quindi questa è la situazione. Peccato, anche qui abbiamo perso un papabile vincitore con Covino ai primi giri. Siamo pronti per vedere gli highlights della Pro Driver Over. Gli highlights della Pro Driver Over sul circuito di Adria, il secondo round della serie, al via non scatta benissimo Andrea Tonoli che perde quindi il vantaggio della pole position, ottima la partenza invece di Cristian Grigio che va subito al comando, parte bene anche Mario Covino che però poi ha un problema tecnico che lo costringe, quindi al ritiro si piazza in seconda posizione Luca Levorato che riuscirà a mantenere poi la seconda piazza fino alle fasi finali, alle spalle di Cristian Grigio che aumenta sempre di più il proprio vantaggio. Si va a formare un quartetto con, vedete, una bella bagarre che vede alla fine protagonista Tonoli che riesce a portarsi avanti e con, vedete anche il contatto che vede coinvolto purtroppo Scanielli, il leader della categoria che viaggiava in, è stato in terza, quarta posizione e quindi alla fine Cristian Grigio vince con la seconda posizione di Andrea Tonoli, la terza di Luca Levorato e la quarta di Pasquale Feola rimontato dalla decima posizione. E questi erano gli highlights della ProDriver Rover e io ringrazio Francesco Suelenta per essere stato con noi, faccio naturalmente un grossissimo in bocca al lupo per la gara di KZ2. Grazie, grazie mille a voi. Grazie Francesco, ti aspettiamo naturalmente per le gare 2 della ProDriver Under e Rover nel primo pomeriggio. Allora, a più tardi. Ciao, grazie. Noi siamo pronti intanto per seguire la terza gara di questa mattinata e quindi tutto pronto per la 125 Club che si sta, che vedete, già schierata in pista. 125 Club che è anche questa al suo secondo appuntamento stagionale. Sono infatti tre le prove, la prima è stata a Sarno e la prossima sarà sul circuito di Val Vibrata. E' una griglia piena anche per quanto riguarda la 125 Club, mentre intanto ricordiamo che ancora siamo in attesa del podio della ProDriver Over e vi ricordo anche il programma della mattina, quindi dopo la 125 Club che è schierata in pista in questo momento avremo la 125 AC Kart, la OK Junior, la 60 Mini con i giovanissimi talenti, appuntamento assolutamente da non perdere, 12 e 15, a seguire la 125 AC Kart Junior e poi la KZ2 a chiudere la mattinata. Intanto siamo pronti con il podio della ProDriver Over, gara davvero molto combattuta, soprattutto per la seconda e la terza posizione. Sul terzo gradino del podio abbiamo visto salire Luca Leverato, secondo gradino per Andrea Tonoli e prima posizione per Cristian Grigio che, vedete, ora riceve il turno di Tonoli e ora Cristian Grigio riceve dalle mani di Manolo Bastianelli di AC Sport il proprio trofeo. questa era la 125, scusate, la ProDriver Over. e questo era il podio della ProDriver Over e ora siamo pronti per seguire la 125 Club dove vi ricordo che in Pole Position troveremo Tommaso Polidoro che è stato, mentre intanto vediamo le foto di gruppo giustamente, dei tre piloti, tutti e tre sul gradino più alto del podio per la ProDriver Over, podio che è ancora in ombra, è una delle poche zone fresche di questo paddock che è già infuocato in questa giornata davvero calda, 10 luglio, temperature elevatissime, un alto tasso di umidità, guardate il colore del cielo e immaginate quanto caldo sta facendo qui sul circuito di Adria e quindi quanto sia difficile per tutti, per i tecnici, per gli addetti ai lavori, per i nostri cameraman che salutiamo e che ringraziamo e senza i quali sarebbe impossibile portare nelle vostre case le immagini che vi state vedendo o che tutta la giornata saranno chiaramente sotto il sole e quindi sarà una giornata lunghissima soprattutto per loro ed ecco intanto il briefing con il direttore di gara per i piloti della 125 Club e vi vado a ricordare intanto come è andata nella precedente gara di Sarno e quindi Francesco Azzori, vincitore della Coppa Italia del 2015, ha vinto gara 1 davanti a Vincenzo Di Costanzo e ad Angelo Ferraro, mentre gara 2 è andata nelle mani di Tommaso Polidoro che ha sfruttato bene la partenza dalla pole position perché era arrivato ottavo in gara 1 e Francesco Azzori, vincitore di gara 1, è arrivato secondo davanti a Vincenzo Di Costanzo la classifica di campionato vede proprio Francesco Azzori, leader a quota 62 punti davanti a Vincenzo Di Costanzo che ne ha 48 poi Angelo Ferraro con 38, Tommaso Polidoro è quarto a quota 34 punti grazie